Meda e Casteggio inaugurano il girone A di eccellenza con la sfida dello stadio Città di Meda fra i padroni di casa e i gialloblu che partono meglio almeno nei primi minuti di gioco provano a creare qualche chance dalle parti di Aiello qui Bertocchi pescato in offside poi la risposta del Meda con Calmi che sicuramente si traveste da assistman gran palla dentro per Parise che non approfitta inizialmente dello spazio lasciatogli da Arbasini bravissimo Muriero sul prosieguo dell'azione calciamale proprio Calmi che aveva iniziato l'azione stessa palla sul fondo il Meda gioca un buon primo tempo ma il casteggio non è da meno almeno nella prima mezz'ora gran recupero di guidi palla per Buscaglia Bayrov vede con la coda dell'occhio l'inserimento di Destradis che sterze calcia bravo Aiello a rimanere in piedi fino all'ultimo il Meda nei primi minuti si complica la vita da solo con una costruzione dal basso senz'altro rischiosa qui Aiello regala palla a Bertocchi il numero 11 del casteggio spreca tutto con un tentativo di pallonetto che termina largo quando meno te l'aspetti al 33esimo il Meda passa in vantaggio di fatto la prima vera chance della partita Galli calcia dal limite l'azione prosegue con Parise che propone sul secondo palo per Calmi la palla è buona per Annoni che ragiona scarica proprio per Galli due tocchi e Destro in porta a battere Muriero per il vantaggio del Meda il primo gol del campionato dei bianconeri lo silla il classe 2000 Matteo Galli il numero 4 che sarà grande protagonista anche nella ripresa il casteggio non ci sta prova a rispondere qui sbaglia ancora Aiello pallone recuperato e tocco per da Prati che finge la conclusione intercetto importante di Di Cesare che permette a Martino di ripartire a campo aperto gran sgroppata del numero 5 che si fa 70 metri palla al piede prima di allargare per Parise un tocco poi punta Arbasini doppie finte sinistro questa volta telefonato parato da Muriero nella ripresa al casteggio prova a rispondere al buon primo tempo del Meda Buscaglia in buca benissimo per Destradis cross in mezzo e gran chiusura di Esposito in ripiegamento al 54esimo arriva il gol che mette un'ipoteca sul match e lo sigla ancora una volta Matteo Galli opla destro a giro clamoroso del numero 4 pallone all'incrocio dei pali esultanza alla CR7 doppietta per il classe 2000 che si dimostra giocatore di categoria con due gol d'autore che regano all'Almeda i primi tre punti del campionato perché il casteggio nella seconda parte della ripresa prova a rendersi pericoloso ma senza grosse opportunità qui Destradis supiazzato impegna Aiello che respinge alla sua sinistra il Meda ad avere le chance più grandi per chiudere la partita di Cesare lanciato da Marano con un gran pallone sciupa tutto con un destro troppo strozzato e bloccato in qualche modo da Muriero poi ancora Meda con Pozzoli che imbuca perfettamente per la gran corsa di calmi gran partita del numero 9 che non trova il gol ma trova sicuramente trame importanti qui lo scarico è per lo stesso Pozzoli che chiude l'azione male Muriero blocca senza problemi è una delle ultime chance della partita con il casteggio che prova con la forza della disperazione a trovare il gol dell'1-2 che però non arriverà al Meda trova i primi tre punti del suo campionato e sale a quota 3 il casteggio invece rimane fermo a quota 0 e sale a due sconfitte in stagione dopo lì tre reti subite a sesto calende finisce 2-0 per il Meda grazie a tutti grazie a tutti